Questo raffreddore non mi passa! Ho calpestato il piccolo Robin! No, hai calpestato il mio pomodorino! Ora cosa userò come palla da bowling? Amico, dobbiamo parlare! A quanto pare il tuo raffreddore sta peggiorando! Tu chiedimelo e io ti farò una prescrizione per... una corpoesplorazione! Basta con questa esplorazione! Il mio corpo non è da esplorare! Dovresti tornare alle misure normali, Robin! Infatti, io ho la sensazione di essere osservato ovunque vada! E io non mi sento pronto a fare il padre! Non esiste! Essere piccolo è bellissimo! Guardate qui! Ho fatto una montagna di farina e queste carote sono i miei sì! E se questo vi è piaciuto, guardate il mio nuovo boomerang! L'ho fatto con un'unghia del piede! Adesso basta! Se vuoi rimanere piccolo, non sarai più il nostro leader! Cosa? Noi siamo persone grandi con grandi problemi! Ci servi qua su! Ora come la metti? No, mai! Io adoro la mia vita in miniatura! Cavallo Silky! Che cosa stai facendo? Beh, ho appena deciso di rimpicciolire tutta la squadra! Ma il laser non funziona! Non più! Sono riuscito ad aggiustarlo e potenziarlo con le mie minuscole mani! Fazziamolo! Piccoli Titans, go! Basta con questa mania del rimpicciolimento! È ora di... Che è successo al mio corpo? Il virus è diventato aggressivo e ha invaso tutti i tuoi sistemi, esattamente come io ti avevo detto! Ci serve più zuppa! O magari una vera medicina! No, ormai è troppo tardi! Abbiamo soltanto una opzione! Oh no, 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 no! Corpo esplorazione! Dove ci troviamo? Siamo intrappolati nel nostro tappeto! Non per molto! Scaliamo le fibre per raggiungere la vetta! Sembra distantissimo! Non potevi rimpicciolirci vicino al mio corpo?